Ritani Castro, continua la battaglia per la buona scuola anche dall'Irpinia? Sì, certo, è stato veramente un periodo molto bello. In queste settimane abbiamo ritrovato tanti colleghi, tanti lavoratori della scuola, gli studenti e anche i genitori che ci sono stati vicini. E questa è la nostra finalità fondamentale, oltre a che questo decreto di legge venga abolito, è che tutti quanti capiscono che la scuola è un bene comune, è uno dei più grandi beni comuni. Trasmettere la conoscenza, contribuire per il benessere del nostro paese e della nostra terra. Oggi pomeriggio faremo un incontro per continuare a fare pressione sui parlamentari della settima commissione, anche se il governo ieri proprio ha concluso le audizioni senza dare nessuna possibilità di risposta agli emendamenti migliaia fatti dalle opposizioni, ma noi chiederemo che la nostra battaglia vada anche a livello parlamentare e si chiede come i docenti chiedono l'unità di tutti i sindacati. Faremo ancora degli incontri con i movimenti e i coordinamenti irpini e cercheremo di allargare e di non perdere questa forza che c'è nata in quella che noi abbiamo chiamato la nostra primavera della scuola. Ecco, contro le prove invalsi anche gli istituti superiori scendono in campo, quanti hanno già aderito più o meno? Noi abbiamo avuto in campagna una partecipazione enorme, non se l'ha mai visto, il 90%. Si vede che veramente la situazione è molto grave, molto difficile in questo momento. E qui sono tanti, addirittura nelle scuole primarie dove nelle classi seconde e quinte si fanno queste prove invalsi, si dovevano fare il 5, proprio il giorno dello sciopero e il ministero l'ha fatto spostare con le invalsi 6 e 7. I genitori hanno per sostenere la nostra lotta, comitati di genitori, non hanno fatto venire i bambini a scuola. Quindi vuol dire che è veramente un momento fondamentale per il nostro paese. Grazie.